Allora Sindaco, è soddisfatto della decisione che ha preso la Regione per portare avanti comunque il progetto di fusione? Beh, era una cosa che avevamo proposto e mi pare che la Regione abbia fatto un voto ponderato rispetto a quello che è stato la richiesta dei comuni e l'espressione del voto dei cittadini ed applicato la legge, quella che è la legge regionale. La normativa vigente è questa, alcune regioni la stanno cambiando, altre l'hanno modificata, ho visto che la Regione Emilia Romagna ha fatto una modifica sostanziale alla legge dell'ulio di quest'anno e come dire, visto che aumenta il numero delle fusioni è giusto anche questa normativa, che è una normativa che ormai è data di parecchi anni, venga anche adeguata rispetto a quelle che sono anche le situazioni e le casistiche. In Emilia Romagna è un'occasione in cui c'è stato un voto non totalmente unanimo in tutti i comuni, ce n'è stato uno un po', vediamo, Saludecio, non si è proceduto, quindi hanno agito in maniera un po' diversa rispetto a come hanno agito qui da noi. Quello di Saludecio è un caso diverso in quanto la legge regionale di proposta della fusione è stata fatta prima di questa modifica, dall'8 luglio, perché mi pare che risalga ad aprile a maggio. In quel caso il Comune di Saludecio aveva espressamente votato una delibera dove annullava questo procedimento. Per voi andare in due anziché in tre alla fusione, scorporando Montemaggiore, non sarebbe stata una soluzione ideale? Questo intanto da un punto di vista normativo non era possibile, perché la proposta di legge era questa che prevedeva una fusione a tre, per cui non era proprio materialmente possibile fare questa cosa. D'altro punto, noi avevamo anche all'inizio pensato di attivare una fusione a due, questo mi pare che sia stato nel primavera, marzo, aprile, marzo mi pare, del 2015, dove i due comuni saltarono a Sarugherino e a Nuovo Accordo, Dopodiché Montemaggiore ci aveva chiesto un anno di tempo, perché loro avevano alcune questioni importanti dal punto di vista dell'amministrazione e per cui abbiamo deciso anche di aspettare. C'è chi dice che lei si proporrà come sindaco della nuova compagine del Comune? Beh sai che adesso il toto elezioni e il toto candidati non mi ha mai interessato. Noi eravamo in una fase istituzionale, che era questa, cioè quella di andare a realizzare e costruire il nuovo ente. In questa fase nessuno doveva parlare degli assetti futuri, perché mettere insieme due cose è una cosa complicata. Una cosa è certa, gli incontri ufficiali e ufficiosi che abbiamo avuto sia con i tre sindici che con tre amministrazioni, il capitato del sì, non abbiamo mai affrontato la questione del futuro.